Cari quadristi, eccoci con Edgar, Manelist, uno dei più grandi piloti internazionali, sicuramente la giovane promessa, young driver, solo 17 anni, 17 years old, pilota ufficiale Team RZ, official driver Yamaha RZ di Emanuele Giovannelli. Ciao Edgar, come stai? Come pensi di questo circuito? È buono, ma non sono abituato per riuscire in questa giovane, non mi piace. È troppo difficile? È buono, ma per me non è buono, non mi piace. Guardiamo a te, guardiamo a te dentro del circuito, sei uno dei più rapidi piloti di oggi, guardiamo il tuo stile pilota, e tu sembi come Romain Cupri in alcuni jumpi o turni del circuito. Non lo vedi davvero veloce, ma sei davvero veloce quando abbiamo il tempo nella tua giovane. Quanti... hai qualcosa in tuo pochetto, più di oggi? Eh, su questa giovane, no. Ho spero che domani ho trovato qualcosa, ma credo che non ho trovato qualcosa. Sì, ma sei sicuro che oggi sei uno dei piloti che non hai avuto un rischio. Io non prendo un rischio, per me. Mi piacerebbe stare clean, ma... È il tempo quando hai bisogno di prendere un rischio, specialmente nella giovane, ma ora non prendo un rischio. Quindi, io provo calmo, è il mio stile. Edgards, vi traduciamo leggermente. Lui, abbiamo detto, oggi è stato uno dei piloti più veloci. Sicuramente anche a livello visivo ha guidato sullo stile di Romain Cupri. È molto pulito sui salti, molto pulito sempre. Un goniometro, atterrava al centimetro dove serviva, sempre molto pulito. Non sembrava vederlo fosse veloce, gli prendevamo il tempo, era tra i veloci. Gli abbiamo chiesto se ne avesse ancora. Lui ci ha risposto, non mi piace tanto questo tracciato, perché è un tracciato tipico di un crossodromo. Mentre Edgards è abituato più su tracciati adatti ai quad, mentre questo è un motocross circuit. E ci ha detto che i rischi oggi non ne ha presi assolutamente. Ma per la gara di domani ovviamente darà il tutto per tutto. Edgards. Cosa? Cosa? Cosa direi? Cosa direi? Cosa direi di Yamaha? Cosa direi di Yamaha? Yamaha, KTM, Honda. Cosa credi di differenza, la differenza di ATV in questo circuito? Cosa direi? Cosa direi, ho racconto in Europa, mi piace KTM, ma questa è la mia prima volta in Yamaha. E non è buon certo. Cosa direi un circuito di metodolo? Adesso è molto difficile, pensavo sul tuo ride, in realtà. E' diverso, credo che sia bene, ma hai bisogno di un'europezza. E' sicuro, questo è sicuro, sì. Quindi, sì, è tutto. Grazie. Edgars, complimenti per oggi, sei davvero un grande ruolo europeo, uno dei più più veloce in Europa. Non lo so, non lo so. Siamo dicendo, dicendo, guardiamo e ci stiamo aspettando per domani, per una nuova intervista, dopo i periodi qualificati. Ciao, Edgars!